Eeeh whattai a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su Zoki Zoki Literature Club Vediamo ragazzi se riusciamo ad aggiungere almeno i 40 lag per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che finalmente ragazzi la volta scorsa siamo riusciti a terminare la route di Sayori Siamo arrivati alla mattina del giorno del festival Quindi abbiamo salvato la partita ragazzi e siamo immediatamente usciti dal gioco tornando al menu principale Perché bisogna assolutamente evitare di vedere la morte di Sayori almeno fino alla route di Yuri Quest'oggi ragazzi quindi ricominceremo di nuovo la partita dall'inizio perché dobbiamo appunto seguire la route di Natsuki E come vi dicevo io sono estremamente curiosa di vedere come si evolvono le cose con lei Perché è l'unica con la quale veramente non ci siamo mai impegnati più di tanto diciamo così E quindi una volta che avremo finito anche la route di Natsuki dovremo appunto ragazzi ricominciare anche la route di Yuri Perlomeno mi è stato consigliato comunque di farla lo stesso e ovviamente questo ragazzi state tranquilli non lo porterò in video Visto che comunque sono cose che già abbiamo visto Una volta che avrò terminato anche la route di Yuri ragazzi riprenderò a registrare da lì dal momento del giorno del festival Perché purtroppo terminata la route di Yuri arrivati al giorno del festival ragazzi dovremo assistere nuovamente alla morte di Sayori E da quel momento in avanti vedere come le cose si svolgono Per cui però questo adesso non ci importa perché andiamo ad incominciare una nuova partita E dobbiamo stare attenti perché non devo assolutamente sovrascrivere i salvataggi con quelli della route di Sayori Quindi dovrò continuare a salvare è vero però su nuovi salvataggi Quindi assolutamente non sovrascriverli Per cui eccoci qua Ehi come sempre ragazzi Vediamo in lontananza una ragazza fastidiosa che corre verso di noi agitando le braccia in era come se fosse totalmente ignara delle attenzioni che potrebbe destare Quella ragazza è Sayori mia vicina di casa nonché caramica di infanzia Avete presente quel tipo di persona con cui andate d'accordo solo perché vi conoscete da tanto tempo Ma che se doveste incontrare oggi non ci sono i genitori amici c'è neanche a pensarci Direi ragazzi di saltare tutte queste cose che per forza di cose scusate il gioco di parole non possono cambiare E di andare direttamente in classe Eccoci qua ragazzi Allora siamo arrivati al club Qui ovviamente è dove conosciamo Yuri ragazzi Sayori c'è sempre parlato bene di te Ecco qua la nostra piccola Natsuki Che dice poi sul serio è portato un ragazzo in modo perfetto di rovinare l'atmosfera Ed ecco qua la nostra carissima Monica Pessima visione Che dice ah giocherina che bella sorpresa Benvenuto nel club E però in questo momento mi spuggono Questo club è pieno di ragazze incredibilmente carine Questo ce lo ricordiamo Che hai da guardare se vuoi dire qualcosa dillo Scusa Natsuki Non riconosco la ragazza di atteggiamento acido E quindi ma a quanto pare Natsuki Adesso è lei ragazzi Solo ed unicamente lei Il nostro obiettivo Ok ragazzi sto saltando tutte queste frasi Perché ovviamente abbiamo già detto Tutte queste non possono cambiare Le cose cominceranno a cambiare Da quando probabilmente comporremo la prima poesia Per Natsuki fondamentalmente Comunque Ok Natsuki prende i suoi cupcake È arrivato il momento di assaggiare e mangiare i cupcake Ok ragazzi Qui Monica ha l'idea Di ovviamente Comporre le poesie Quindi da questo momento in avanti Diciamo che c'ha inizio Sta cosa di comporre le poesie Per cercare di conquistare Una ragazza del club Per cui in questo modo saremo tutti alla pari Loro ovviamente non sono molto entusiaste Sayori invece si In aggiunta ora che avremo un nuovo membro Credo che ciò potrebbe aiutarci A essere più a nostro agio Ogli uni con gli altri E rafforzare così i legami all'interno del club Dico bene giocherina Monica mi sorride di nuovo calorosamente Aspettate c'è ancora un problema Adesso che siamo tornati all'argomento originale Il mio ingresso nel club Mi faccio avanti senza giri di parole E dico ciò che ho pensato per tutto il tempo Non ho mai detto che sei entrato a far parte del club E quella sarebbe stata una decisione saggia amico mio Perché non ti saresti cacciato in questo immenso schifosissimo guaio Sayori potrei avermi convinto a fare un salto Ma non ho mai preso alcuna decisione Ho ancora dei club da visitare E perdo il filo di discorso Tutti e quattro mi fissano con i loro sguardi avviliti Ma mi dispiace Pensavo Giocherina Ragazze No non ho alcuna difesa contro di loro Come potrei mai prendere una decisione razionale In un momento del genere In cui tutto il sangue sta fluendo In un'altra parte del corpo Che non è il cervello Cioè se scrivere poesie è il prezzo da pagare Per poter passare tutti i giorni insieme a queste splendide ragazze Giusto Va bene Ho deciso allora Entrerò nel club di letteratura Yuppie E vai Come incasinarsi la vita E avere a che fare con pazze psicopatiche Che vogliono la mia morte No vabbè la mia morte no Ma che saranno terribilmente ossessionate con me Mi sguardi e le ragazze si illumina uno ad uno Sì sono così felice I seri mi abbraccia saltando su e giù Ehi Mi è davvero spaventata per un istante Se tu fossi venuto solo per i cupcake Mi sarei incazzata per davvero E brava Dezio che avresti fatto bene Perché il nostro caro protagonista È un grandissimo scemo Cogliore pezzo di me Ufficiale Benvenuto nel club di letteratura Ah beh che dire Grazie Ok ragazzi Con questo possiamo ufficialmente concludere l'incontro di oggi Con una nota positiva Ricordatevi i compiti per stasera Scrivete una poesia A portare al prossimo incontro In modo da potercele scambiare Monica mi guarda ancora una volta Giochini non vedo l'ora di vedere come ti esprimi Eh 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 Già sì Posso davvero fare colpo su Monica Alla sera della classe Con la mia mediocre abilità di scrittura Riesco già a sentire l'ansia Per vada nel mio corpo Nel frattempo le ragazze continuano a chiacchierare Mentre gli Uri e i Natsuki mettono via il loro cibo Eh giocherina Visto io ci siamo Che non ci torna a casa insieme È vero Sayuri rimaneva sempre a scuola Fino a tardi per le attività del club Per cui Era tanto che non torniamo a casa assieme Certo perché no Evviva Perfetto Detto ciò Lasciamo l'ora al club e ci dirigiamo verso casa Per tutto il tragitto Mi darò in continuo Nel mentre le quattro ragazze Sayuri Natsuki Iuri Ovviamente Monica Mi divertirò davvero Trascorrere il tempo in un club di letteratura Tutti i giorni dopo la scuola Magari avrò la possibilità Di avvicinarmi a una di queste ragazze Eh va bene Devo soltanto sfruttare al meglio la situazione Sono sicuro che la fortuna mi sorriderà E credo che inizierò stasera Scrivendo una poesia Perfetto ragazzi Ed ecco qua Il nostro primo Momento Cruciale Perché adesso Andrò a recuperare ragazzi Le foto che avevo fatto Ai termini Di ciascuna ragazza Proprio per fare in modo Di non sbagliarne nemmeno uno Per cui Natsuki Eccole qua Allora La parola calzini Troneggia come sempre ragazzi Potrete Non crederci ragazzi Ma finalmente Posso selezionare la parola calzini Posso selezionare la parola calzini Perché è proprio Fra le parole preferite Da Natsuki Quindi Uniamoci tutti quanti In questo momento Di così grande importanza Perché Selezionerò Finalmente La parola calzini È incredibile Ma vero ragazzi Ragazzi potrete non crederci Ma fra queste parole qua Non ce n'è nessuna Per Natsuki E veramente Mi sembra molto strano Però vi assicuro ragazzi Che le ho ricontrollate Tipo 3-4 volte E non Non ne trovo nessuna Visto che fra le sue parole Comunque ci stanno Parole tipo Balzo Saltello Pirouetta Magari Ballare potrebbe essere Quella più adatta Però No infatti Versaglioli Lo sapevo Veramente ragazzi Non so cosa dire Pace C'è Fortunatamente Dopodiché Spuntino Saltello Batticuore Pirouetta Adesso le so ragazzi Perché vi ho detto Le ho ricontrollate 3-4 volte Quindi mi sono rimaste Un po' impresse Rosa Ovviamente Lecca lecca Parfait Balzo Bolle Cioccolato Ovviamente Fantasia Soffice Irritabile Come è lei Ovviamente San Valentino Appiccicoso Caramella Estate E ok Perfetto Soltanto una parola Ragazzi Non c'è stato permesso Di insomma Di selezionarla Quindi Da adesso in avanti Ragazzi È probabile Che le cose Cominceranno A cambiare Per cui Da questo momento in avanti Sarò costretta A leggere Tutti i dialoghi Bentornato Giocherina Sono lì Vedete vedere Che non c'è Piantata In asso Ma no Non preoccuparti Potrà sembrare Un po' strano Un po' strano Per uno Come me Ma mantengo Sempre La parola Data Beh Sono tornata Al club Di letteratura Sono stato L'ultima Ad entrare Quindi le altre Stavano Giocchiacchierano Tra di loro Grazie per aver mantenuto La tua promessa Giocchiacchierina Spero Non sia Ripedia Troppo pesante Per te Ti stai emergendo A capo Vinto La letteratura Ma che cazzo Stai a di Qualcosa A cui non sei Abituato Oh ma per favore Come se dovessimo Avere un occhio Di riguardo Per lui Sayori Mi ha detto Che quest'anno Non aveva Alcuna intenzione Di venirti In un club Neanche l'anno scorso Non so se Ha intenzione Di venire qui Solo per passare Il tempo O cosa Ma se non ci Prendi sul serio Non uscirei Vivo da questo posto Natsuki Certo che parli Proprio tanto Per una che tiene La sua collezione Di manga Nella ora del club Ma Natsuki si blocca A metà Tra le parole Morica e manga Anche i manga Sono letteratura Sconfitta Natsuki Torna a sedersi Al suo posto Non preoccupatevi Ragazza Giocchierina Fa sapere il suo meglio Almeno finché si diverte Mi aiuta persino Con le faccende domestiche Senza neanche Che glielo chieda Cose come cucinare O pulire la mia stanza È davvero fidabile E di questo succede Perché la tua stanza È così disordinata Che finisce per distrarmi E una volta È quasi dato fuoco Alla casa Beh ecco Voi due siete davvero Buoni amici Vero? Potrei finire Per ingelosirmi Stai zitta Pazza psicotica E perché mai Anche tu e Giocchierina Potete diventare Buoni amici Eh Sayori Come sempre Sayori Sembra tutto ignorare La situazione imbarazzante In cui mi ha messo Oh oh Yuri Ho già anche portato Qualcosa per te Aspetta Sayori È per me Ecco No in realtà Non essere timida Davvero Non è niente Di che si tratta Lascia perdere Sayori La fa sembra Una cosa importante Ma non è così Ah Adesso che faccio Eh Scusa Yuri Ho parlato Senza riflettere Immaginato anche a me Mettere una pezza Alla situazione Dai Non preoccuparti Tanto per cominciare Non mi aspettavo Alcunché Quindi ogni bel gesto Da parte tua È bene accetto Mi renderà felice In ogni caso Dici davvero Sì Non ci darò troppo peso Se è questo che vuoi Va bene Beh Allora prendi Yuri Fruga una sua borsa E tira fuori un libro Non volevo che ti sentissi Tagliato fuori Quindi ho preso un libro Che pensavo ti potesse interessare È una lettura breve Perciò dovrebbe mantenere alta La tua attenzione Anche se non sei solito leggere Inoltre potremmo Ecco Parlarne Se ti va Come Come fa questa carassa Che ragazza Ad essere così carina Senza neanche volerlo Stai lontano da lei Si è perfino presa la briga Di scegliere un libro Che secondo lei mi piacerà Nonostante io non legga molto Grazie Yuri Lo leggerò di sicuro Prendi in mano il libro Con entusiasmo Uh Beh Fai con calma Non vedo la risentire Cosa ne pensi Di nuovo che Monica Adesso inizia qualche attività Programmata per il club Ma non sembra questo il caso Sei ora e Monica Stanno conversando Velocemente nell'angolo La faccia di Yuri È già fondata Tra le pagine di un libro Non posso far a meno Di notare la sua espressione intensa Come se aspettassero Questo tempo Eh Come se aspettassero A tempo questa opportunità In frattempo Natsuki sta frugando Nel ripostiglio Ah Sento Natsuki Faro un gran sospiro All'interno del ripostiglio Sembra infastinitare qualcosa Ecco qua ragazzi Qua già sta cambiando il tutto Perché il gioco Ha già capito Che io voglio Indirizzarmi verso di lei E questa cosa è straordinaria Perché Questo non è accaduto E altre volte Infatti si avvicina a lei Il nostro protagonista Nel caso le serva una mano Eccoci qua Vedete Questo è Nuovo E wow Stai cercando qualcosa Dannata Monica Non rimette mai a posto La mia roba Che senso ha Tenere ordinata La tua collezione Se poi arriva qualcuno A mettertela sotto sopra E c'hai ragione Te posso da tutta la ragione Il mondo Natsuki fa scorrere Un mucchio di libri E scatole lungo lo scaffale Manga Leggi manga Giusto? Ah Qualche volta I manga sono una di quelle cose Che non puoi ammettere Che ti piacciono Finché non capisci Cosa ne pensa l'altra persona Come lo sai comunque Ti ho sentito accennarlo L'altro giorno E in ogni caso Ce l'hai praticamente Scritto in faccia Cosa dovrebbe significare? Capisco Al lato di uno degli scaffali C'è un volumetto Tutto solo Sul letto In mezzo a alcuni libri Per curiosità Lo tiro fuori dal mucchio Eccolo qui Natsuki me lo strappa via Dalle mani Si gira verso un cofanetto Manga Lo infila in mezzo agli altri Ah Così va meglio Vedere un cofanetto Con un solo volume mancante È probabilmente La cosa più irritante Del mondo Ti capisco Non servo più di avvicino Il cofanetto Che sta rimirando Perfect girls Girls È una serie Di cui non avevo mai sentito Parlare prima d'ora Forse vuol dire Che non faccio parte Nel suo pubblico Di riferimento Più semplicemente Che è orribile Se hai intenzione Di giudicare Fallo pure fuori Da quella porta Indica la porta Del club E io non stavo Giudicando un bel niente Non ho detto proprio nulla Non mi piace Il tono Con cui l'hai detto Ma ti dirò Una cosa Giocherina Un consiglio Dal club di letteratura Non giudicare Un libro Dalla copertina Infatti Natsuki tira fuori Dalla scatola Il primo volume Di perfect girls Ora ti mostrerò Il perché Mi piace Il volumetto Tra le mani Ah Fisso la copertina Mostra quattro ragazze In pose vivace E femminili Che indossano Vestiti colorati È estremamente Mo Che significa Non so che significa Non restare lì impalato Wow Natsuki mi afferra per il braccio E mi tira fuori Da ripostiglio Dopodiché si siede Contro il muro Sotto il davanzale Della finestra Mi facciano risedermi Per terra accanto a lei Non sarebbe più comodo Sederci sulle sedie Prendo posto vicino a lei Le sedie non vanno bene Non riusciremo a leggere insieme Altrimenti Eh come mai Ah immagino che così sia più facile stare vicini Non dire queste cose Mi farà sentire strana così Natsuki incrocia le braccia E si sposta un paio di centimetri più in là Scusa Devo dire però che non mi aspettavo Di servirmi così vicino a lei Non che sia una cosa particolarmente brutta Apro il volume Passano solo pochi secondi Prima che Natsuki si avvicini di nuovo Vabbè Guadagnando spazio Mentre spera di non farsi nuotare Riesco a vederla sbirciare Oltre la mia spalla Molto più impaziente di me Di iniziare la lettura Caspita Quanto tempo è passato Dall'ultima volta che ho letto l'inizio Eh? Non ti capita di sfogliare i vecchi volumi ogni tanto? In realtà no Magari mi capita di farlo Dopo aver finito tutto il manga Ehi ma stai leggendo o no? Oh certo che sì Ma non è ancora successo Sono l'importante Quindi posso parlare con lei allo stesso tempo Ah ragazzi a proposito Scusatemi per la mia voce Totalmente intasata Ma mi è venuto un raffreddore Che lasciamo perdere Sembra racconti di un gruppo di amiche al liceo Un tipico manga Slice of life Ormai ho abbandonato questo genere Dato che raramente riesce a intrattenermi abbastanza A raccompensare la mancanza di trama Quindi Cosa dovrei aspettarmi? C'è una trama? Beh è ovvio Pensi che una cosa senza trama mi piacerebbe? Cioè Beh Credo di capire cosa vuoi dire Gran parte del prologo parla di cose semplici Tipo C'è un capitolo divertentissimo Dove si prendono una cotta per il ragazzo dalla gelateria Questo però ti aiuta a conoscere meglio i personaggi E nonostante tutto È comunque divertente Ma più avanti ne succedono di tutti i colori Come nei capitoli che narrano il loro passato Quando iniziano le prime storie d'amore Ecco cosa Loren è così bello Ci sono molti passaggi toccanti Ah davvero? Sembra che tu sappia il fatto tuo Forse ti ho sottovalutata Ehi un momento Cosa vorresti insinuare? Ah Natsuki mi dà una piccola spinta Intendevo dire che non ti ho ancora vista raggiungere la massima potenza Ah Ti sei salvato in corner Ah Sembra che questo capitolo riguardi la cucina Fammi indovinare Si parla spesso di cucina in questo manga? Beh Natsuki fa una piccola pausa Quasi come se non volesse ammetterlo Sì Perché? Che ti importa? No niente Ero solo curioso Dato che anche a te piace cucinare Giusto? È Soltanto una coincidenza È capitato che imparasse a cucinare nello stesso periodo in cui ho comprato questo manga Come se potesse venirmi voglia di imparare qualcosa solo perché ne parla in un manga Cazzo Se c'è qualcuno che è suggestionabile a tal punto mi dispiace per lui Ah ah Non è affatto una coincidenza Credo che questo spieghi l'interesse di Natsuki per la cucina E comunque tra tutti gli hobby che è possibile scegliere da un manga Questo è sicuramente uno dei migliori Per non parlare del fatto che è veramente brava Quindi Chi sono io per giudicare? Oh Ma quanto è carina ragazzi Pici È carinissima Sembra un piccolo panda Rosa È bellissimo Continuiamo a leggere per alcuni minuti Sono arrivato a finire un paio di capitoli Questa qua ragazzi Comunque la prima cutscene di Natsuki Facciamoci caso Sicura che non ti stai annoiando? Sì sono sicura Anche se non stai facendo altro che guardarmi mentre leggo? Beh A me sta bene Se lo dici tu Penso sia divertente condividere con l'altra persona qualcosa che ti piace Sono davvero felice quando riesco a convincere qualche mio amico a guardare una serie che mi è piaciuta Capisci cosa voglio dire? Eh? Mh? No? Eh Non Beh non saprei Che intendi? Non presti manga alle tue amiche? Potresti evitare di girare il dito nella piaga? Dannazione Ah scusa Come se potessi far leggere questa roba alle mie amiche Pensano che i manga siano per bambini Non posso neanche accennare a parlarne che subito iniziano a dire cose del tipo Eh? Non hai ancora superato quella fase? Mi fanno venire voglia di prenderle a pugni in faccia Ah conosco quel tipo di persone In tutta onestà è difficile trovare amici che non ti giudichino Ancormeno trovarne altri con i tuoi stessi interessi Sono già un po' sfigato di mio quindi Credo che col tempo mi sia avvicinato agli altri sfigati come me Ma forse questo è più difficile per una come te Eh Sì è corretto più o meno Aspetta a quale parte si riferisce? Voglio dire sento di non poterli tenere nemmeno in camera mia Non oso immaginare cosa potrebbe fare mio padre se li trovasse Sveee Primo riferimento al padre ragazzi Almeno qui nell'aula del club sono assicuro Se non fosse che Monica ha fatto un po' la stronza Uffa non posso proprio averla vinta vero? Beh alla fine sei stata comunque ricompensata Non trovi? Cioè ora sono qui e sto leggendo il tuo manga Beh non è che questo risolva ogni mio problema Forse ma almeno ti stai divertendo no? E quindi? Ah 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 Ora pianta la maledizione Vuoi continuare a leggere sì o no? Va bene va bene Volto pagina Di punto in bianco Natsuki inizia a ridere Ah 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 Che carina che è Mi ero completamente dimenticata di quello che succedeva in questa scena Natsuki indica una delle vignette Minori è il mio personaggio preferito Finisci sempre per dispiacerti per lei dato che è così sfortunata Ma la situazione peggiora quando Oh non posso fare spoiler Muoviti e finisci il capitolo La voce di Natsuki sprizza entusiasmo È esattamente l'opposto del suo solito tono altezzoso Ma sono inabituata a condividere i suoi manga preferiti con le amiche E posso capire il motivo È difficile esprimere a parole la sensazione che provi Quando riesci a essere in sintonia con qualcuno E il pensiero di far provare la stessa cosa a Natsuki Che raramente ne ha avuto l'opportunità finora Mi fa sorridere un po' tra me e me Ok ragazzi eh Siete pronti con le poesie di oggi? Ehm Oh andiamo Non potevi dirlo in un momento peggiore Scusa È solo che devo assicurarmi che ci rimanga abbastanza tempo Certo che messi così sembrate proprio due piccioncini Eh Ah L'improvviso Natsuki nota quanto si è avvicinata a me Si è allontanata di scatto di almeno 20 centimetri Va bene credo che per oggi mi fermerò qui Chiudo il volumetto e lo porgo a Natsuki Me lo ridai indietro Non vuoi sapere cosa succede? Ah è vero ma Monica ha detto Non essere sciocco Portatelo a casa Eh? Sei sicura? Lo dico principalmente perché non ho in mente di trascorre il mio tempo libero a leggerlo Beh certo Ci metteremo un'eternità a finirlo se non te lo porti a casa Basta che lo finisci entro domani Così potremo iniziare il successivo E se me lo rovini? Ti ammazzo? Entro domani Finora ne ho letto solo una parte Potrei rimanere indietro con le serie anime se accetto Ma credo che sia un sacrificio necessario per vedere in cambio la faccia entusiasta di Natsuki O forse sono più spaventato di scoprire cosa succederebbe se non lo facessi Va bene allora Mi alzo Torno dove ho messo le mie cose in filo con Kotel e il manga nella mia borsa Ad ogni modo ti sei ricordato di scrivere la tua poesia ieri sera? Sì sì La mia tranquillità termina in questo istante Non posso credere di aver accettato di fare qualcosa di così imbarazzante Non sono riuscito a trovare molta ispirazione dato che è la prima volta che lo faccio Bene ora che siamo tutti pronti perché non trovi qualcuno a cui mostrarla? Non vedo l'ora Sayori e Monica tirano fuori le loro poesie con grande entusiasmo Quella di Sayori è su un pezzo di carta tutto stropicciato Strappato da un quaderno a spirale Invece Monica ha scritto la sua su un quaderno dalla caportina cartonata Intravero già dal posto in cui sono seduto la grafia impeccabile di Monica Con riluttanza Natsuki e Yuri fanno lo stesso scavandone le loro borse E anche io faccio lo stesso Perfetto Mi è arrivato il momento ragazzi di farla leggere ovviamente prima di tutto A Natsuki e questo ci importa Sono molto curiosa ragazzi di vedere come Natsuki mostrerà entusiasmo Perché non ovviamente ha sempre più o meno detestato quello che abbiamo scritto Ieri ho detto a Natsuki che volevo leggere la sua poesia Ma forse prima dovrei mostrarle la mia Eccoci qua Ok iniziamo con quello che non mi piace Innanzitutto Natsuki rilegge la poesia Non importa non mi va a rialdarti la mia opinione Eh? Allora che senso ha leggere quello che scrivono gli altri? Mi sono impiato a scrivere quando avrei potuto fare altro E poi ricordi quando ti ho detto che volevo leggere le tue poesie? E ciò che avevo per la testa mentre scrivevo Voglio farti sentire abbastanza a tuo agio da voler condividere con me i tuoi lavori Come ha detto Monica Ah beh Mi sentirebbe a mio agio a farti leggere la mia poesia se la tua facesse schifo Avresti dovuto mostrarmi qualche stupida poesia Così avrei potuto dirti Ah ah non è niente di che Ora lascia che ti mostri cos'è la vera letteratura E invece hai rovinato tutto Spero tu sia felice adesso Ovviamente le hai piaciuta ragazzi Però non può mostrarcelo Perché è orgogliosa E quindi deve comunque farci sentire in colpa Quindi in breve mi stai dicendo che ti è piaciuta? La risposta di Natsuki le rimane in gola Sei proprio Tu non capisci niente Te l'ho già detto Non c'è bisogno di durare le 4 venti come se tu fossi chissà chi Sono certo che questa sia la prima volta che te lo sento dire Lo dico più che altro a me stesso Natsuki deve odiarmi davvero tanto Non riesco a capire se il fatto che le piace la mia poesia sia un bene o un male Ad ogni modo devi ancora mostrarmi la tua giusto? Ah e va bene Ma solo perché Monica mi obbligherebbe comunque Ok la solita ragazzi Le acque le possono volare Visto? Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuta Mi piace Che? Non mentire Non sto mentendo Perché sei convinta che non mi possa piacere? Beh Perché sì A scuola tutti pensano che per scrivere poesie sia necessario essere raffinati Quindi la gente non prende su serio ciò che scrivo Ma non è proprio quello il punto di scrivere una poesia Cioè essere liberi di esprimere se stessi Lo stile non compromette il significato Sì esatto Mi piace quando è facile da leggere ma di impatto Com'è questa poesia Vedere quelli intorno a te che fanno cose strabilianti può essere davvero scoraggente Perciò ho voluto scrivere qualcosa al riguardo Sì capisco Uno dei vantaggi di scrivere in modo semplice è che si dà un peso maggiore ai giochi di parole Ad esempio la mia poesia fa credere al lettore che si concluderà con una rima Cosa che non succede Questo effetto aiuta a far risaltare le mie emozioni Capisco Credo che sia più profonda di quanto pensassi E questo che significa essere esperti Sono contenta che tu abbia imparato qualcosa Non te lo esseresti mai aspettato dalla più giovane eh Beh direi di no Vi ho deciso di darle corta con l'ultimo commento In verità non do molto pesa all'età Ma se Natsuki si sente orgogliosa mi dispiacerebbe contraddirla Perfetto Continuiamo ragazzi Facciamo leggere la nostra poesia a Sayori Adesso sono curiosa pure ragazzi di vedere Le reazioni delle altre ad uno stile Che a loro non piace Ovviamente Giocherina che bella poesia Ah ecco Sicura che sia la tua prima volta? Certo Non è tutto so granché Ti sembra il tipo di ragazzo che scrive poesia nel tempo libero? Eh Immagino tu abbia ragione Ma è proprio per quello che mi ha colpito Beh a dirla tutta Temevo che non ti ci saressi messa seriamente O che non l'avresti scritta affatto Sono davvero felice che tu ne abbia scritta una Mi ricorda che adesso fai davvero parte del club Beh Così come il fatto che ci troviamo nell'aula del club no? Eh Beh ovviamente Non ci ho ancora preso la mano Ma non significa che romperò la mia promessa Visto? Giocherina Come ti ho già detto Tutto sommato non sei più così egoista Provare cose nuove per gli altri Qualcosa che soltanto le brave persone fanno Grazie Sayori Non so se Sayori abbia capito le mie vere intenzioni D'altronde Non posso negare che lei sia una delle ragioni per cui sono entrato nel club Sapendo quanto tutto questo sia importante per lei Figurati Mi assicurerò che tu ti riverta un mondo qui con noi Sarà il mio modo di ringraziarti Ok Lo terrò a mente allora Evviva Ti andrebbe di leggere la mia poesia? Non preoccuparti Non sono per niente brava Vediamo Ovviamente ragazzi Ha mostrato entusiasmo Non credevo Yuri la odierà Yuri la odierà a morte Fammi indovinare Ho aspettato fino a stamattina per scriverla Questo ragazzi ovviamente È uguale a quello che abbiamo già letto Per cui andiamo avanti Senza stare a leggere cose che abbiamo già letto due volte Tra l'altro ragazzi Ok ci ho promesso che domani scriverà la migliore poesia di tutti i tempi Facciamola leggere a Yuri Yuri fissa la poesia Passa un minuto Ho molto più tempo di quanto le serve per finire di leggere Oh scusa Mi sono dimenticata di iniziare a parlare Tranquilla non devi sforzarti Non mi sto sforzando Devo soltanto convertire i miei pensieri in parole Un attimo solo Prima volta che scrivi una poesia giusto? Perché me lo chiedi per sicurezza? Iniziano a sospettarlo dopo averla letta Quindi fa schifo No ho appena alzato la voce Oh scusami Yuri si copre la faccia con le mani Ormai sono patente È uguale credo ragazzi Come quando abbiamo scritto la poesia per Sayori Fondamentalmente Quindi probabilmente da questo punto di vista Non ci sarà molta differenza Ok sì Sono cose che abbiamo già letto ragazzi Ok sì Sono frasi che abbiamo già letto pure nella route di Sayori E ok Solita poesia Per cui solite cose Andiamo avanti Scusate ragazzi però Penso sia fondamentalmente inutile stare a rileggere cose che abbiamo già letto Io insomma lo faccio soprattutto per voi ragazzi Perché vogliamo arrivare al succo della questione Cioè scoprire ovviamente E le cose di Natsuki Ok Monica ha detto che le piace Che è più carina di quanto si aspettasse Sembra un po' qualcosa che scriverebbe Natsuki ovviamente E anche lei è brava a scrivere Per cui prendilo come un complimento Se lo dici tu Sì per caso hai mai letto qualcosa di Che è più carina di quanto si aspettasse Eh forse tanto tempo fa È famoso per essere riuscito a narrare qualsiasi tipo di storia In poche e semplici parole Le sue poesie possono essere divertenti Tenere O perfino tristi A volte sono lunghe E sono un paio diversi Questa ragazzi è nuova sta cosa eh Potrebbero sembrare per bambini Ma se ci rifletti su Esprimono visioni del mondo Che possono essere condivise da tutti Capisco Più ne mi stai dicendo che Natsuki fa lo stesso Più o meno Magari non può essere definita un'esperta Ma nei suoi lavori difficilmente troverai parole riempitive Saranno anche facili da scrivere Ma far giungere il messaggio a destinazione È davvero arduo Quindi capisco perché sei il genere di poesia che fa per te Sono sicuro che finirò col provare tantissimi stili diversi Potrebbe volerci un po' prima che ci prenda la mano Non c'è nulla di male Mi piacerebbe vederti sbizzarrire provando cose nuove È il modo migliore per trovare lo stile che più ti si addice Le altre potrebbero essere un po' di parte verso i loro stili Io però ti aiuterò a trovare quello che fa per te Quindi non sentirti forzato a scrivere come vogliono le altre Non devi mica far colpo su di loro Questo lo dici te Monica Ad ogni modo ti va di leggere la mia poesia? Tranquillo non sono molto brava Ok ovviamente sì queste cose le abbiamo già lette Buco nel muro Bla 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 Verso libero Queste cose ragazzi pure le abbiamo già lette Quindi non c'è niente di Così diverso Ok il consiglio del giorno di Monica È rimasto ovviamente Lo stesso per cui Siamo verso fine giornata Con lei dovrei aver finito Mi guardo intorno È stato un po' più stressante di quanto avevo previsto È come se mi stessero tutte giudicando per le mie mediocrabilità di scrittura Anche se stanno solo cercando di essere gentili Non c'è modo che le mie poesie siano paragonabili alle loro Un club di letteratura dopo tutto Sospiro Credo che questo sia ciò in cui mi sono cacciato da solo Dall'altra parte della stanza Siore e Monica chiacchiano allegramente I miei occhi si sposano Su Yure e Natsuki Si scambiano cautamente dei fogli Condividendo l'una con l'altra le loro poesie Nel mentre che leggono Servo cambiare le loro espressioni Ovviamente adesso ci dovrebbe essere una sorta di litigio In cui ragazzi interverrà Sayori Ok sì il dialogo è ovviamente lo stesso Natsuki se la prende Perché Yure ha detto che è soltanto carina Ok perfetto Adesso dovrebbe intervenire Sayori Da un momento all'altro Interviene Monica La zittiscono Ok qui ragazzi ci chiede di appoggiare O Yure o Natsuki Oppure di chiedere l'intervento di Sayori Noi ovviamente dobbiamo appoggiare Natsuki In questo caso Eccoci qua Yure sei davvero in gamba Eh beh ma Natsuki ha ragione Penso che mi spremo le meningi Nel tentativo di giustificare le mie opinioni Penso che riuscire a trasmettere delle emozioni Utilizzando poche parole Possa essere considerato un risultato notevole Fa in modo che l'immaginazione del lettore Prenda il sopravvento E la poesia di Natsuki riesce pienamente nell'intento Esatto Proprio così Ah ah Ciò dimostra quanto tu sia brava Non credo sia quello che Natsuki Basta così Eh? Io? Ma lei è stata così cattiva con me Natsuki protesta con voce lamentosa Ascolta Colo di cui abbiamo parlato ieri è vero Scrivere è qualcosa di veramente personale E condividerlo può essere davvero difficile Sembra che oggi abbiamo imparato questo Anche le critiche più leggere Possono portare a discussioni molto animate Da una rapida sbirciata dietro le mie spalle Sayuri annuisce vigorosamente Perciò Non devi sentirti minacciata Sei una brava scrittrice Natsuki Ah La voce di Natsuki si interrompe per la sorpresa Grazie per averlo capito E infine mugugna questa frase a malapenudibile Yuri Yuri mi guarda con fare abbattuto Con quell'espressione non posso evitare di sentirmi così anch'io Sono sicuro che Natsuki non crede davvero a tutto quello che ha detto Quindi anche tu non sentirti attaccata Bene Se lo dici tu Ehi Non devi scusarti per me giocherina Cavolo Natsuki prende fiato Io Il punto è Natsuki si guarda attorno Potete smetterla di fissarmi Come era facile immaginare Natsuki è più in difficoltà di quanto vorrebbe far credere Sayuri e Monica risolgono lo sguardo Comunque Quella cosa riguardo le tue tette Non dicevo sul serio Ok Tutto qui Natsuki risolglie lo sguardo Evitando il contatto visivo con tutti Esatto Tu sei bella così come sei Yuri Sayuri Penso che andrò a fare del tè Eh Cercavo solo di essere d'aiuto Sono sicuro che abbia apprezzato Do una pacca sulla spalla a Sayuri Beh Ora che abbiamo superato questa crisi Avete letto le poesie di tutti Giusto Spero ne sia valsa la pena In particolar modo per te Giocherina E in tutta onestà È un ottimo diversivo rispetto all'ozio A cui eravamo fin troppo abituate Ah 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 Quindi è stato il fatto che mi sei unito al club A rovinare l'atmosfera No niente affatto C'è ancora un po' di tempo Prima di andare a casa Quindi rilassiamoci un po' Ovviamente Oltre a chiacchierare In questo club Facciamo anche cose relativi alla letteratura Perciò magari potresti approfittarne Per sfogliare un libro O scrivere qualcosa Dopotutto È per questo che il club è stato creato Non sono d'accordo Monica Eh Su cosa Non è questa la cosa più importante del club di letteratura La cosa più importante È divertirsi Ah ovviamente Beh ecco perché sei la vicepresina in testa Sayori Comunque Monica ha ragione Far parte del club di letteratura Probabilmente significa che non posso passare Tutto il mio tempo a girarmi i pollici In fin dei conti però Credo che ne valga la pena Ok ragazzi È ora di andare Come vi siete sentiti Quando vi siete scambiati le poesie È stato molto divertente Beh direi che ne valga la pena Non è stato male Dettagli a parte Giocherina E tu Sì direi lo stesso È stato bello parlarne con tutte voi Fantastico In tal caso faremo la stessa cosa domani E forse visto ciò che avete imparato oggi Dai vostri amici Riuscirete a scrivere delle poesie ancora più belle Penso tra me e me Ho imparato qualcosa in più Sui tipi di poesie Che piacciono a ciascuna ragazza Significa che con un po' di fortuna Potrei riuscire più facilmente A fare colpo su una di loro Annuisco tra me e me Con ritrovata determinazione Giocherina Pronto per tornare a casa? Certo andiamo Sayori mi sorride È passata veramente una vita Dall'ultima volta in cui E Sayori abbiamo passato Così tanto tempo insieme Certo non posso dire Che non mi sto divertendo Sayori Riguardo a ciò che è successo prima Eh? Che intendi? Sai tra Iori e Natsuki Succedono spesso cose del genere No 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 In realtà è la prima volta Che le ho viste litigare in quel modo Ti assicuro che sono delle persone meravigliose Non le odi vero? No che non le odio Volevo solo la tua opinione Tutto qui Comprendo il motivo per cui Siano tue buone amiche Uh Sai giocherina È bello che riesca a passare Del tempo con te nel club Ma vederti andare d'accordo Con tutte È ciò che mi rende più felice E penso che anche le altre Si rovino bene con te Ma che dici? Non in poi ci sarà da divertirsi Sembra che Sayori Ancora non abbia capito Le situazioni in cui mi trovo Certo Essere amici con tutti è bello Ma Dobbiamo davvero Fermarci a questo? Non ci resta che vedere Cosa ci riserverà il futuro Sayori Dona pacca sulla spalla Sayori Più che con lei Stavo parlando con me stesso Ma a volte è facile usare Sayori A modo di monologo interiore Ok Già Facciamolo Perfetto ragazzi Allora la prima giornata È andata Per cui Io salverò qui Facendo attenzione Ovviamente A non sovrascrivere Assolutamente Questi altri file Ragazzi Soprattutto questo E quindi Ovviamente La prossima volta Ragazzi Ripartiremo da qui Quindi dovremo Comporre la Seconda poesia Ovviamente Dedicandola totalmente A Natsuki E vedere cosa cambia Quindi come cambieranno Le cose Anche se penso che Fondamentalmente Le altre due ragazze Si comporteranno Come comunque abbiamo Già potuto vedere Nelle altre due route Che abbiamo fatto Perché comunque Alla fin fine Più o meno Le cose che succedono Sono sempre le stesse Nel senso che Per esempio A Yuri Da fastidio Che io mi sterei Dedicando ad un'altra ragazza E questo è già capitato Ragazzi Quando l'abbiamo fatto Con Sayori E a Sayori Darà comunque fastidio Il fatto che stiamo Dedicando ad un'altra ragazza Ovviamente Cosa che è già successa Quando ci siamo dedicati A Yuri Per cui Delle cose Sicuramente cambieranno Forse non saranno tantissime Ma comunque Sarà interessante Scoprire più dettagli Appunto riguardo a Natsuki Una cosa che vi volevo Chiedere ragazzi È che però Non credo Che in questa route Potremo vedere La morte di Natsuki Perché ragazzi È chiaro che ogni ragazza Comunque alla fine delle cose In qualche modo Si uccide Per cui ovviamente Se dobbiamo dedicarci al good ending Non credo che questa volta Potremo vedere La morte di Natsuki Perché comunque Ci dobbiamo sempre Fermare La mattina del festival Senza Entrare nell'aula Quindi probabilmente Magari per vedere La morte di Natsuki Ragazzi Ci farò poi Un video a parte Quando finiremo Tutta questa questione Del good ending Appunto Insomma Per vedere Anche in quel caso Le cose come vanno Quindi questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione Abdocio a tutti ragazzi Da giocherina Ciao